Grazie, grazie Giulia, grazie ragazzi. Io ovviamente sono molto felice di essere qui perché sono di Vicenza e per me da Londra tornare a raccontare che cos'è la mia esperienza è sempre una grande gioia. Perché stamattina mi piaceva che tutti parlavano o di design o di dev o di marketing. Marketing inteso come contenuti. Ecco io faccio un marketing che di contenuti ha poco a che fare perché faccio performance, quindi faccio un sacco di dati. Dentro ci metto anche un sacco di design e mi trovo a parlare di dati anche spesso con i sviluppatori, con tool di analisi dati o anche tool di sviluppo web. Perché appunto il mio tipo di marketing è un marketing che in Italia si fa ancora un po' strano a sentire. Si chiama appunto growth hacking e praticamente è un po' una combinazione tra tecnologia, marketing e utente in ottica crescita. Cioè vado a lavorare con tutti quegli imprenditori che hanno un'idea per sviluppare un nuovo prodotto essenzialmente digitale per testarlo, capire come inserirlo in un nuovo mercato e fare dei test e degli esperimenti affinché questo prodotto digitale possa crescere in termini di utenti registrati ma ovviamente di fatturato. Quello che vi ho appena raccontato è essenzialmente una startup che non è altro che un'impresa che è basata su un prodotto digitale e che appunto siccome non si sa bene da che parte andare, non sappiamo bene quali saranno i trend della tecnologia degli utenti, andiamo a lavorare di test ed esperimenti per riuscire a capire attraverso i dati qual è la strada da prendere. Tra una startup e l'altra ne ho viste circa 15 nella mia carriera che sono cresciute molto velocemente. Da 0 a 8 mesi siamo passati dall'idea essenzialmente all'exit con partnership con grosse aziende multinazionali. Faccio la consulente da tre anni e mezzo quindi gli altri progetti li ho visti come consulente. Tra una startup e l'altra ho curato il lancio europeo di PS4 e lo sviluppo della beta del visore di realtà virtuale di PlayStation. Quindi anche lì è stato interessante da startup, zero budget, crea un brand, crea una community all'avere un brand enorme, un sacco di budget e ovviamente un'opportunità pazzesca per il lancio di PS4. L'ultimo progetto che ho seguito a Londra è stato con Tim Berners-Lee, che immagino sappiate chi sia, è essenzialmente l'inventore dell'HTTP, con il quale abbiamo lavorato con 25-30 startup per lavorare a quei progetti che si chiamano Open Innovation. Cioè quando una startup fa dei software, degli algoritmi di machine learning piuttosto che di altri tipi di tecnologie emergenti per aiutare le grosse multinazionali a innovare. Perché gli R&D delle multinazionali non ce la fanno, non sanno bene quali sono le tecnologie d'avanguardia, non sanno come applicarle, oppure lo sanno ma non ce la fanno e quindi lavorare con le startup in genere permette loro di andare molto veloce. Adesso che vi ho raccontato più o meno quello che faccio, vorrei raccontarvi un po' di più di che cosa parleremo oggi. Quindi, chi di voi sulle mani ha mai avuto una bellissima idea per una startup? Ok, siamo 4-5, perfetto. E la vostra idea bellissima è stata un'app, una piattaforma, un'app, una piattaforma, un e-commerce? Qual è stata la vostra idea meravigliosa? Ecco, perfetto. Infatti, allora, o ci sono delle idee molto diverse su quello che, appunto, è un'idea di una startup, se no, per altri, l'idea di una startup è essenzialmente fare l'app che aiuti qualcuno a fare qualcosa in modo molto più semplice e veloce, no? Immaginate tutte quante quelle app che avete installate nel telefono. Per esempio, Airbnb ci aiuta a trovare una stanza a casa di qualcuno in modo molto veloce, piuttosto che io uso un sacco anche l'app che mi fa prendere le note nel telefono e che poi mi sincronizza con il computer. Insomma, app che fanno anche lavori abbastanza semplici, no? E oggi con il digitale sviluppare un'app non è una cosa così complessa, cioè possiamo farlo anche senza degli sviluppatori, perché fare un'app possiamo farlo anche mettendo assieme dei tool drag and drop, dove appunto mettiamo insieme dei blocchi e non ci serve nemmeno, scusate sviluppatori in sala, avere il vostro aiuto per svilupparla. E ciò cosa significa? E ciò cosa significa? Che nel nostro telefono abbiamo un sacco di app, ok? In media, in tutto il mondo, ognuno di noi ha 80 app installate nel telefono? 80 app. Magari noi qui ne abbiamo circa 40, 50, quante app avete installate nel telefono? Esatto, dipende dalla memoria intanto, no? Non contarle proprio, perché sono mezz'ora, eh? Ok. Quindi, vabbè, in media io più o meno so che in Italia siamo sui 45-50 app, tu sei un super nerd 68. Questo per dire che per quanto noi abbiamo 80 app installate nel telefono, in realtà quelle che usiamo sono circa la metà. E qui vi ho portato una grafica suddivisa per paesi che definisce nella linea blu chiaro, azzurra, il totale delle app installate nel telefono. E nella linea blu scuro, invece, il totale di app che ognuno di noi utilizza a livello attivo mensile. Quindi, come potete vedere, ognuno di noi ha una super idea per un'app, quando abbiamo un'idea semplice, però quello con cui ci dobbiamo scontrare è essenzialmente il fatto che non possiamo usarle tutte allo stesso tempo. E nella maggior parte dei casi i nostri utenti hanno 80 app installate nel telefono, ma ne usano forse solo la metà. E se allardiamo un po' lo spettro, andiamo a vedere cosa succede nello store, per esempio solo iOS, vediamo che ci sono un milione e mezzo di app, che non sono solamente un milione e mezzo di idee che ognuno ha per sviluppare una startup, ma sono anche un milione e mezzo di progetti che mettono assieme dei team, del tempo e dei soldi, non solo per sviluppare l'app, ma anche per sperare che queste persone non le cancellino dal loro telefono, no? Una volta che tu le installi, speri che poi effettivamente le persone le usino nel tempo. E in realtà nel 77% delle volte queste app vengono scaricate e usate solo una volta. Ok? Quindi il problema non è neanche più quello di dire ho un'idea meravigliosa per un'app, come faccio a creare l'app del secolo? L'obiettivo è essenzialmente quello di dire ho l'idea del secolo, ma devo anche fare in modo che le persone che la usino, la usino per tanto tempo e continuino a usarla. Se noi usiamo Facebook ancora per un sacco di tempo, anche se è fuori solamente da dieci anni, non lo facciamo solamente perché è Facebook e perché tutti i nostri amici sono lì, ma perché l'algoritmo cambia in continuazione e il modo in cui Facebook si interfaccia con noi cambia in continuazione. Quindi quello di cui vi parlerò oggi è il fatto di analizzare i dati, non solamente dal punto di vista del mio datore di lavoro, dell'agenzia, del cliente. Quindi io non vado a analizzare i dati solamente per capire quali sono le performance di quell'e-commerce. Io vado a analizzare i dati anche per capire qual è il comportamento del mio utente all'interno di un'app o di un e-commerce o di una piattaforma, per capire quali sono le sue preferenze e per capire come il mio cliente si interfaccia con il mio prodotto digitale, e quando parlo di prodotto digitale parlo di esperienza, nel tempo, affinché questa relazione si alimenti continuamente. Anche perché non posso fare altrimenti? Se io ho un e-commerce o un'app, quello con cui mi scontro è questo, l'aumento costante del costo di acquisire un utente online. La linea sotto è quella mobile che parte da zero nel 2006 e che ultimamente va oltre il costo di acquisire un utente da desktop. E quindi se sono sempre quell'azienda che sta sviluppando un'app on e-commerce, deve per forza trovare dei modi alternativi per fare in modo che il mio utente continui ad utilizzare l'app l'e-commerce, altrimenti non ci sto dentro finanziariamente. L'altro problema è l'attenzione dei miei utenti, che sono continuamente bombardati non solo da contenuti o da notifiche, ma da un insieme di tante cose che succedono nello stesso momento. A me succede di prendere in mano il telefono con l'idea di fare qualcosa, poi mi arriva una notifica, leggo la notifica e mi sono completamente dimenticata di quello che avevo in mano, del motivo per il quale avevo il telefono in mano. Ok? E questo non è solamente un problema mio perché vi vedo annuire, quindi mi sento un po' meno sola. Il fatto è che la nostra attenzione di utenti è sempre più limitata. E quindi se siamo sempre noi che abbiamo quell'idea di quella start-up, di quell'e-commerce e abbiamo speso un sacco di soldi e di tempo per svilupparlo, non possiamo pensare che una volta che abbiamo acquisito un utente o che quest'app sia stata scaricata, effettivamente ci possiamo mettere l'anima in pace e dire ok, tutto ok. In realtà il nostro lavoro è appena iniziato. E quindi diciamo che cosa rispondere a chi mi chiede ciao, come sviluppare, come posso sviluppare un'app virale? Perché poi il virale appunto è un'altra di quelle buzzword oltre al growth hacking con il quale io mi scontro spesso. Perché l'idea è appunto quella di dire ah vabbè, ma insomma sei sui social e sul digitale è facile instaurare il passaparola virale, è facile che tutti inizino a parlare di qualcosa. Guarda cosa ha fatto Motta con l'asteroide, l'avrete visto insomma, lo ricorderete tutti, eppure è successo tipo più di un anno fa. E perché ce lo ricordiamo così spesso, così forte, perché magari è il virale. No, in realtà non è per forza questo, è perché ci hanno un martellato di pubblicità. E in tutto ciò noi pensiamo che sia facile fare virale. Il problema è che il virale non sempre è così facile, a meno che non abbiamo un brand grosso, come per esempio Motta, come per esempio Burger King. Questo è un'app di Burger King sviluppata in America, negli Stati Uniti, che praticamente in realtà aumentata permetteva agli utenti di inquadrare una pubblicità di McDonald's e in realtà aumentata questa pubblicità prendeva fuoco. Ok. Con questo video tuo potevi andare da Burger King e mangiarti anche un Whopper gratis, semplicemente ridendo del fatto che avevi bruciato una pubblicità a McDonald's. Ora, ci ha fatto ridere, no? Però questa app in realtà è geniale, perché fa leva su un senso di community, un senso di valore condiviso che hanno tutti quelli che vanno da Burger King e non da McDonald's. Perché da Burger King ci vai? Perché essenzialmente non ti piace McDonald's, in qualche modo non ti trovi in linea con i valori di McDonald's, no? E quindi il discorso dell'app virale, l'app è andata virale, sì, perché c'è una comunità, un valore condiviso. Inoltre, ovviamente la realtà aumentata era un'esperienza completamente digitale, completamente simpatica che stimolava un sacco di persone a farlo, anche perché aveva un Whopper in omaggio, ok? Quindi non è un'app andata virale semplicemente perché c'era la viralità dietro, è stata costruita proprio in ottica di esperienza digitale. Un altro esempio del quale vi voglio parlare è essenzialmente Taffo, no? Che tutti voi conoscerete e tutti voi avrete ricevuto una volta un vostro amico che vi ha condiviso questa pubblicità di Taffo. Qualcuno dice di no. Allora, spiego un attimo. Taffo è un'azienda funebre, fanno servizi funebre in Lazio ed è da qualche anno che essenzialmente creano contenuti sui social molto simpatici, legati all'attualità, alla politica, a quello che succede, diciamo, ogni giorno. E sono così simpatici che spingono le persone a condividere questi contenuti. Ora, quando parlo di virale, un sacco di miei clienti mi dicono, ah no, ma perché non facciamo il virale che fa Taffo? E io tipo li guardo anche un po' male perché dico, sì, se Taffo un giorno mi dimostrerà che grazie a questo virale avrà venduto una bara in più, io ve lo faccio tranquillamente. Ma se voi andate a sentire tutto quanto quello che ha anche, vada a dire, il social media manager di Taffo in giro, non racconta mai i dati di fatturato di Taffo. Perché il problema di avere dei contenuti virali, che poi magari ci vanno anche virali, anche perché non lo decidi tu se un contenuto va virale, lo decidono le persone che condividono quel contenuto, il problema è proprio capire qual è, diciamo, la correlazione tra fatturato e marketing. Ok? Stamattina sentivo appunto parlare qua male dei marketer, perché alla fine siamo stati un po' noi a farci anche la brutta reputazione, no? Cioè il marketing era sempre quella roba più o meno che faceva comunicare o che ti faceva entrare in contatto con i clienti. Io a Londra ho imparato che marketing è essenzialmente aumentare il fatturato dell'azienda per cui lavoro, altrimenti mi licenziano, no? E l'altra cosa che a volte succede è anche questa, cioè non so se ve la ricordate, l'invasione di campo della tizia seminuta durante le finali di Champions. Anche qui una discussione, un passaparola, che ovviamente si ricordano più i ragazzi che non le ragazze, comunque una discussione in passaparola infinito, perché questa tizia sul costume aveva scritto il nome di un sito, adesso non mi ricordo che sito fosse, però praticamente era pubblicità occulta data dall'invasione di campo di questa tizia, no? E quindi anche qua, virale, virale, virale. Ma ora, se io non mi ricordo il nome di quel sito scritto del bikini, che senso ha questo virale? Secondo ma nessuno. Quindi, virale sì, ma solo se. Il virale di Hotmail, per esempio, è stato un virale che è stato molto importante per chi si occupa, come me, di prodotti digitali. Non so se ve lo ricordate, ma Hotmail è stato uno dei primi a creare una casella e-mail che poteva essere accessibile da qualsiasi computer. Liberamente si poteva creare la propria casella e-mail, la potevi chiamare come volevi e non avevi nessuna costrizione. Ci sembra la normalità oggi? 15 anni fa non era assolutamente la normalità, era qualcosa di super strano, perché noi potevamo crearci una casella e-mail tipo nome, cognome, chiocciola, fornitore di servizi. E sperare fosse libero, no? E quindi alla fine tutti quanti hanno cominciato a creare una casella e-mail di Hotmail, perché era molto più facile da usare, era semplice, era gratis, se poteva accedere da dove si voleva, in quattro minuti e mezzo tu ti creavi la tua casella e-mail. Quello di cui non ti rendevi conto era che quando iniziavi a mandare le e-mail tramite Hotmail, c'era questa frasetta come firma nella e-mail, no? C'era scritto PS, I love you, get your free e-mail at Hotmail. Che vuol dire? Ciao, ti amo, PS, ti amo, fatti la tua casella e-mail gratis su Hotmail. E quindi io mandavo un sacco di e-mail a tutti i miei amici, a tutti voi, a qualsiasi persona mandassi una mail, questi si ritrovavano quella frasetta scritta come firma. E quindi venivano invogliati a creare a loro volta una casella Hotmail. Ma non lo facevano solamente perché c'era quel link, che in gergo si chiama Referralink, lo facevano soprattutto per l'esperienza di prodotto, per l'esperienza digitale che avevano provato quando aprivano quella mail, quando si creavano quella mail, no? Era l'innovazione del prodotto che portava a creare questa e-mail. E qui vediamo come è stata la crescita di utenti, no? Cioè da quasi zero, in pochissimo tempo, sono arrivati a 70 milioni di utenti. Soprattutto grazie al fatto di aver utilizzato questa tecnica di Referral, di Viral Marketing. E consideriamo un altro esempio. Chi di voi ha mai usato Uber? Sulle mani? Ok, siamo a un quarto della stanza. Chi mi vuole raccontare, anzi no, non c'è microfono, quindi non possiamo farlo, ve lo racconto io. Allora, se avete usato Uber e se non avete usato Uber, vi racconto com'è l'esperienza di usare Uber. Ok, io a Londra nel 2012 non avevo Uber e quando andavo a cena dai miei amici, che è come se andassi a cena a Brescia, partendo da Verona, perché Londra è essenzialmente grande, facevo tardi, dovevo chiamare un taxi nell'agenzia locale. Il taxi mi arrivava dopo non si sa quanto tempo, tu dovevi aspettarlo fuori sul marciapiede, pagarlo sperando che avesse un banco, ma se no dovevi andare a prendere i contanti, perché poi, insomma, nessuno ha granchi contanti, almeno io non ne ho mai. E poi appunto dovevi fare in mo, cioè sperare che ti portassi a casa nel tragitto più breve e nel minor tempo possibile. Tutto ciò era un grosso punto di domanda, fuori al freddo, alle tre di notte a Londra. Un giorno, sempre a un'altra di queste cene con i miei amici, mi è stato detto, ma scaricati Uber, anzi ti do il mio referral per scaricare Uber, così ti prendi 10 euro di sconto. Ho scaricato Uber e ho chiamato il taxi sull'app. Io nella mappa vedevo dove fosse il taxi più vicino, quanto tempo ci avrebbe messo ad arrivare, un minuto prima che il taxi arrivasse fuori, l'app mi mandava una notifica di prepararmi fuori, io sono uscita, il taxi è arrivato, mi ha portato a destinazione, ho guardato nella mappa dove ero, ho guardato nelle recensioni, ovviamente prima di prenderlo, che tipo di stelle, quante stelle avesse, sono arrivata a casa, mi ha messo giù, ho pagato nell'app e la cosa è finita lì. Quando sono scesa dall'auto e sono entrata in casa, ho detto una cosa, wow. Era l'esperienza che io avevo avuto, era pazzesca, perché in pochissimo tempo sull'app avevo vissuto un'esperienza digitale che era completamente diversa da quella che ero abituata prima, e quindi andava a soddisfare un bisogno in un modo completamente diverso. Oggi se anche devo chiamare un taxi in Italia, a volte, cioè tre settimane fa ero a Milano, a luna di notte ho dovuto aspettare un quarto d'ora perché arrivasse un taxi e non è arrivato. Ho chiamato Uber ed è arrivato. Questo per dire che quando io ho un'esperienza digitale così pazzesca e così innovativa, non c'è niente che mi possa far pensare che quel prodotto digitale non possa essere pazzesco e non possa essere innovativo per me. Ok? E la stessa cosa succede per esempio con altri prodotti digitali fighissimi, no? Google Maps. Oggi nessuno di noi si sognerebbe di andare all'estero o andare a trovare qualche amico in giro per l'Italia senza usare Google Maps. Giusto? Perché sapete benissimo che quando lo usate non c'è niente che essenzialmente vi può far pensare che quell'esperienza possa essere negativa. Anzi oggi vi dico anche dove sono gli autovelox, dove c'è traffico, cioè al massimo sbaglia a calcolare la coda in autostrada come stamattina. Però, diciamo, quella è l'unica cosa negativa di cui potete lamentarvi, no? Anche in questo caso l'esperienza digitale che provate con Google Maps è pazzesca. È qualcosa che mai aveste pensato prima ed è un modo di soddisfare i vostri bisogni in modo completamente nuovo, completamente innovativo. La stessa cosa succede con Netflix, ok? È il prodotto in questo caso che tramite design e interfacce ci fa capire qualcosa di più di noi stessi. Se voi usate Netflix, chi di voi usa Netflix? Io ho cominciato a usare Netflix e ho scoperto che mi piacciono delle serie, che ho dei gusti, che prima non pensavo nemmeno di avere. Cioè mi ha aiutato a capire delle cose su di me che nessun altro prima era in grado di dirmi. Forse oggi qualche mio amico mi dice guarda questa serie. E ancora una volta quindi è il prodotto digitale con l'esperienza che mi fa vivere a raccontarmi qualcosa, a soddisfarmi dei bisogni e dei problemi in modo che nessun altro aveva fatto prima, anche insegnandomi a fare qualcosa di più, a trovare qualcosa di meglio su di me e a farmi conoscere qualcosa in più su di me. E quindi cosa facciamo quando un'app o una piattaforma ci piace tantissimo secondo voi? Siamo sicuri che non andrà mai a crearci un dispiacere, a avere un'esperienza, a farci pensare qualcosa in negativo. Cosa facciamo secondo voi? Esatto, ne parliamo. E quindi in realtà il passaparola non dipende dalle campagne, non dipende dai social, sì anche, ma l'unica leva importante per il passaparola è l'esperienza digitale. Perché non lo facciamo per il brand, non lo facciamo per risparmiare dei soldi. L'elemento più forte per il passaparola è il prodotto figo, che spinge a parlarne con i nostri amici e noi ne parliamo non solo perché appunto vogliamo aiutare i nostri amici, ma perché se diciamo al nostro amico di farsi Netflix, lo facciamo perché in qualche modo noi vogliamo essere considerati dei gran fighi che consigliano sulle novità e sulle cose più importanti, più geniali, più fantastiche prima di qualsiasi altro, no? Noi ci medesimiamo nel brand che stiamo consigliando. E quindi il passaparola virale dipende essenzialmente dal prodotto digitale, no? Poi magari il prodotto digitale ci dà anche dei soldi, ci dà dei disconti, così poi noi parliamo magari ancora di più di questa nostra esperienza fantastica. Oppure magari ci mandano delle notifiche, grazie che ci hai aiutato, grazie hai fatto un buon lavoro, hai presentato tre amici e quindi noi ci sentiamo ancora più appagati dall'averne parlato con i nostri amici. Ma il fatto è che il brand conta relativamente quando parliamo di prodotti digitali o il marketing o le campagne. Perché quando voi pensate a Amazon o a Zalando, non pensate al brand, no? Non pensate ad Amazon come Jeff Bezos o al brand Amazon in sé. Voi quando comprate qualcosa su Amazon lo fate perché sapete che su Amazon trovate qualsiasi libro a un prezzo conveniente, vi viene mandato a casa, sempre che CDA non faccia qualche casino, vi viene mandato a casa e voi in pochi giorni lo ricevete, no? E quindi quando pensate a Amazon pensate già all'esperienza digitale che avete in mente e che vi viene promessa, non pensate al brand. E quindi quando consigliate queste esperienze digitali lo fate perché appunto sapete che l'esperienza digitale è quella che conta davvero. Quindi, in God we trust all others bring data, che è una citazione che a me piace molto, perché come vi raccontavo prima, com'è che fanno queste aziende, queste aziende digitali a sviluppare la migliore esperienza digitale del mondo, perché cercano di anticipare i nostri bisogni, ok? Quando Zalando mi dice che la taglia preferita per me è un 40 piuttosto che un 42, lo fa perché in qualche modo analizza i dati dei miei acquisti e capisce cosa ho ottenuto, cosa no, ok? Quindi cerca tramite gli algoritmi di darmi delle informazioni in più su di me e in qualche modo di aiutarmi a decidere, ok? E lo fa appunto analizzando i dati su di me. Ed è questo il lavoro di marketing, di tecnologia e di design. Riuscire a mettere assieme tutti questi tre elementi per sviluppare un'esperienza digitale che si autoalimenta nel tempo, grazie ai dati, grazie al machine learning, grazie alla tecnologia. Ed è qui che il lavoro di chi, di chi il lavoro nostro su WordPress o su qualsiasi altra piattaforma non finisce mai, perché si tratta di continuare ad anticipare le potenziali scelte dei nostri utenti di riferimento, perché essenzialmente la nostra esperienza digitale sarà la migliore possibile. Quindi il virale che conta deve partire dal prodotto e deve essere funzionale alla crescita e agli obiettivi aziendali. Quindi le vannamarchi, che vi dicono che basta il social, basta il video, bastano i gattini su Facebook, le lasciamo dove stanno, perché in realtà quello che davvero conta per il virale è sviluppare un'esperienza digitale memorabile. Quindi dire vado virale è essenzialmente una stellina, il virale è la felice conseguenza di un prodotto figo, di una strategia, no? Come vi dicevo, il prodotto figo è importante che venga sviluppato figo fin dal primo momento e che venga sviluppato, iterato, migliorato nel tempo continuamente senza fermarsi mai. Come fa Facebook? Facebook non si ferma mai di testare nuove funzionalità, perché così è sicuro di anticipare sempre e comunque le esigenze nostre e del mercato di riferimento. Quindi ho finito e se abbiamo delle domande. Grazie a tutti! Grazie per la visione!